Angelo! Gatta! Morelli! Angelo! Angelo! Si vede d'acqua? Si vede d'acqua? Gatta! Ma questa è trasparenza? E' mille! E' tutto! E' tutto! Capottamento! Aspetta! Necro si! Prende le macchie su questo... Nel donatore! Allora! Ma... Mi sospenda il fisio... Mi sospenda il fisio... Cioè, questa è dalla... A 56 gradi!